Le lesioni focali della prostata si diagnosticano attraverso una serie di indagini, in genere strumentali e tra questi sicuramente l'ecografia è quella che fa un po' la parte del leone. Il quadro tende ad evidenziare quella porzione soprattutto della prostata e la parte periferica, la regione posteriore, dove abitualmente tendono ad insediarsi i tumori maligni. Sicuramente l'indagine principe è attraverso la via transrettale, quindi attraverso una sonda che viene introdotta nel retto vengono poi esplorate le diverse zone del parenchima prostatico e soprattutto la zona del parenchima periferico dove abitualmente si insedia il tumore prostatico.